La domanda è come gli ha fatto ad arrampicarsi lì sopra, come gli ha fatto ad arrivare lì sopra? Igno, a piedi scherzi, a piedi ignudi. Questo è qui, diciamo, gli aveva da rifare in tento, gli pioveva in casa, gli aveva la carta tramata, gli si era alzata, allora dice, aspetta, ci vuoi io, ma ci sono, fa una cosa, mi tappa la visibilità questo curicciolo, e non vedo, non mi riesce a vedere il tramonto, lo butto giù, a piedi ignudi e via, ammazzolate, una di a quell'altra, ma che scherzi davvero, Batman, muto, lo moragnolo, lo moragnolo, gli ha da guardare, gli ha da imparare, se ci va l'asle, il problema più grosso, gli ha le scarpe antifurtonisti, gli occhiarini, dice un trucciagli occhiarini, è un sepole, questo è qui, il classico vicino di casa, quello lì, il tuttofare, il tuttofare, ci penso io da me, ma quale noleggi 2001 si è, e si spende, andiamo fu da me solo fu un po', via, e ammazzolate, borda di piedi, ah no, ci mancava poco, via, gradino, gradino, un gradino alla volta, e ammazzolate, si pentralisce, questa è la classe, questa è la gente che sa lavorare, o magari prima di montare lì sopra un grappino per farsi il raggio, anche perché dà lucidità, la grappa dà lucidità, bisogna sempre vegliare un grappino prima di fare, diciamo, queste manutenzioni casalinghe, vai, ora si è fermato a riposarsi, dice, ah, sto facendo un bel lavoro, sta venendo bene, comunque è importante la sicurezza sul lavoro, e lui, diciamo, è una persona sicura, lui non ha problemi, se gli fa l'asle, gli dice, guarda, io sono sicuro, sono assicurato, sono assicurato, se volo di sotto, mi importo una sega, c'ho l'assicurazione, ma poi, guarda, ci saranno 7-8 metri, chi tutti sbucci, mi dà l'idea che se tu voli di sotto, tutti sbucci, un pochino, badatevi ragazzi che è ammazzolo, badate il ammazzolo di 15-18, no, questa, questa dire, questo lo chiamo a fare lavoro a casa mia, lo chiamo a casa mia, o so, 2001 noleggi, di Durgoni Pietro, a Prato, in via Lambruschini 14, a Campi Bisenzio, in via Tesi 77, a Poggia Cagliano, in via Lombarda 111-E, noleggi 2001, di Durgoni Pietro.